Dagli atti degli apostoli. A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabità, nome che significa gazzella, la quale abbondava in opere buone e faceva molte lemosine. Proprio in quei giorni ella si ammalò e morì. La lavarono e la pose in una stanza al piano superiore, e poiché Lidda era vicino a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono due uomini a invitarlo. Non indugiare, vieni da noi. Pietro allora si alzò e andò con loro. Appena arrivato, lo condussero al piano superiore, e gli si fecero incontro tutte le vedove in pianto, che gli mostravano le tuniche e i mantelli che gazzella confezionava quando era fra loro. Pietro fece uscire tutti, e si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto alla salma, disse, Tabità, alzati. Ed ella aprì gli occhi, vide Pietro, e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare, poi chiamò i fedeli e le vedove, e la presentò loro viva. La cosa fu risaputa in tutta Giaffa, e molti credettero nel Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero, questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro, questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima. È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici, volete andarvene anche voi? Gli rispose sino un pietro, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Il problema di fondo non è andare e abbandonare l'opera intrapresa, ma è da chi andare? Da quel interrogativo di Pietro noi comprendiamo che la fedeltà a Dio è questione di fedeltà a una persona con la quale ci si lega per camminare insieme sulla stessa strada. E questa persona è Gesù. Tutto quello che abbiamo nel mondo non sazia la nostra fame di infinito. Abbiamo bisogno di Gesù, di stare con lui, di nutrirci alla sua mensa, alle sue parole di vita eterna.